Vi facciamo vedere cosa succedeva dieci anni fa per quanto riguarda il calciomercato, perché facciamo parte di una grande famiglia, la famiglia della Gazzetta dello Sport, il nostro archivio è ricchissimo, quindi abbiamo la fortuna di poter ripercorrere, andare a rivivere quei momenti con una prima pagina della Gazzetta dello Sport che pensa Nino ha addirittura dieci anni, perché era il 2005 e c'era Vieta, Vieri al Milan e Tony alla Fiorentina, tra poco vi mostriamo anche questa prima pagina, comunque era un mercato quello di dieci anni fa che faceva sognare Nino? Era un mercato molto diverso perché era diversa la situazione del calcio italiano che era molto più centrale, eccolo qua, era molto più centrale diciamo in Europa rispetto a quello che è oggi ed è incredibile come si possa essere perso tutto questo terreno, Tutto sommato in un tempo, non dico breve, ma insomma non è che sono passati 30 anni E poi c'è Vieira felice a casa Juve, ho scelto il meglio, quindi stiamo parlando di top Esatto, parliamo di Vieira, di Tony che poi dopo preannunciava grandi stagioni alla Fiorentina e poi sarebbe diventato uno dei protagonisti per esempio del Bayern che tornò allo Scudetto, quindi erano giocatori di grande livello E certo, insomma, Tony che peraltro segna ancora alla grandissima, ha chiuso la stagione come capocannoniere, quindi insomma direi che Luca Tony è un gran bel esempio per il nostro calcio